Ho ho ho, ho ho ho, ciao Fere, ciao, come stai? Così, così, io sono molto felice, sai perché? Meno male che lo sei almeno tu, Stef, meno male Sai come mai sono così tanto felice, Fere? Perché? Perché questo oggi giochiamo una custom map a tema pirata, Fere E quindi hai deciso di concerti in questo modo per l'occasione, giusto? Isola dispersa in mezzo al mare, una mappa del tesoro per trovare chissà quale tesoro Addirittura una tribù di indigeni da sconfiggere Non desidero altro della vita, Fere E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono Stef che ci giochiamo a Minecraft E oggi siamo qui con la custom map di Stef Che neanche mi ricordo come si chiama Ah, no, Lens, che sarebbe terre sconosciute, Fere Meno male che lo sei tu Allora, partiamo Sei tutto spettinato, Stef Eh, vabbè, avevo il cappello, me lo sono tolto Ma ti sembra fare... Sì, 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 mi sembra giusto fare un video con il spettinato Sì, perché avevo il cappello ed ero più bello di prima Allora, guarda dove partiamo Siamo in una nave Abbiamo il tour agli standardi Dimmi che non è già bellissimo E siamo appunto arrivati Oh mio Dio C'è Frank e c'è un papagallo Ok, dicevo Ah, c'è un altro qua C'è un papagallo, ti posso prendere? Mi ha fatto il versetto L'ho sentita Che carino Sei molto carino In ogni caso sto dicendo Siamo arrivati appunto in questa terra sconosciuta E dobbiamo scoprire cosa sta succedendo Eh, assolutamente sì Perché non sappiamo chi siamo Non sappiamo cosa siamo Ma guarda un po' qua Ci stanno già dando tutto in ferro Piccone Ok, perfetto Guarda Spada e pala Vai La pala Secondo me c'è una lotta per scavare Per scavare e trovare il tesoro Per scavare e trovare il tesoro Steph Allora, vediamo un pochettino Qua è pieno di ceste E c'è Frank È un pirata anche lui Allora What's going on? What about the ship? Quindi cosa sta succedendo? Cosa? Leggi in italiano Non lo sai leggere? L'inglese? Ah, è meno io questo Quindi il bianco siamo noi E il blu è Frank Comunque cosa sta succedendo? Cosa è successo alla nostra nave? Stiamo chiedendo a Frank Perché magari lui sa qualcosa di più Certo Dice che il meccanismo principale della nave È stato danneggiato Danneggiato E per ripararlo ci vorrà del tempo Esatto, esatto Ok Where is Petro? Petro? Chi è Petro? Dov'è Petro? Che succede Steph? Queste sono pistole Allora, prendiamo un po' di frecce Ma spariamo con le frecce Aspetta, adesso proviamo un attimo Non sparare il papagalli però, eh Sì Sì Funziona come un arco, ok Ok Allora, un'altra spada della serie Se vuoi picchiare a due spade Delle uova Noi prendiamo tutto, no? Ma stai esagerando Non ce ne facciamo niente Di riempirci le tasche di tutte queste fesserie Spera, ma questo non è il Pokémon? Sì, è un Pokémon Ma cosa ci fa qui? Non proprio È un animale che esiste Quindi vabbè Questo è un custom map Come potete vedere Ha una resource pack modificata Anche la spada a livello estetico Un po' diverso Tutte le cose del cibo Eccetera, eccetera E quindi credo che abbia aggiunto Anche delle cose Che non ci sono in Minecraft vanilla Quindi in quest'isola Noi potremo trovare Un po' di tutto Le tartarughe, Steph Come una tartarugina Oh, mamma mia Che bellina Regalami una tartarugina Non te la regala la tartarugina Perché no? Perché dobbiamo già prenderci un cricetto E basta avanti il cricetto Quello verde che cos'è? Quello verde non lo so Però aspetta che io devo un attimino Allenarmi con la mia pistola Lascio stare il po- Ok, funziona Uguale Era un pollo Non era un pappagallo Tu mettono a sparare i pappagalli Io ho sparato un pollo Ok C'è Petro, Fede Ecco Petro, finalmente Ciao Petro Ciao Petro Ti abbiamo trovato Che brutto che sei Ma tu sei il capitano o no? Allora Hai visto qualcosa di interessante Hai trovato qualcosa di interessante Non c'è nulla A parte una vecchia registrazione, Fede E penso che intenda proprio quello Ok Ce la dai? No No Sì, sì Ce l'adatta È un music disc Io ho visto prima un posto dove ascoltare il music disc Quindi direi di andare Però mi sembra tutta rotta Sì Aspetta C'è una persona che sta ansimando e sta correndo tipo Le fassi concitati Non fare, fare Questo è King Kong Sì, sì Fare, è King Kong C'è sbranato adesso, vero? Aspetta Muore Ok Muore Sembra che stia ricaricando l'arma Sta, ha tossito Ok Sta riscappando Ok Quindi sta scappando da qualcosa Sì Ok E dura tantissimo questa cosa Ora è nella sabbia Morto? Che verso ha fatto alla fine stessa? Tipo Ui, 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 ui È morto Era detto che c'è King Kong in questi da Vedo due cose Lì vedo qualcosa di strano Credo che sia paglia Non lo capisco da così lontano Sì, si appaglia E lì vedo una vela bianca Vela Andiamo alla vela Sono d'accordo Anche perché magari la vela ci serve Per riparare la nostra nave Non lo so Vedremo Non ho idea Però mi tengo armato con la pistola Vai, stessi Sono pronto a sparare King Kong Perché so che c'è Me ne sono proprio sicuro L'ho riconosciuto diversi Allora Ok Che bellino Lo voglio Vediamo un po' Mi sembra totalmente inutile Però controlliamo bene Ma anche a me sembra che non ci sia niente di troppo rilevante Sì, eh sì Ok Ok Andiamo via Però guarda anche lì Guarda C'è qualcuno C'è qualcuno Andiamo prima lì Andiamo Andiamo Abbiamo fatto bene ad andare fin qua Quello è uno standardo pirata Aspetta Aspetta Eh, c'è lo standardo pirata Io adesso non so se questo sarà amico o nemico Quindi Già che c'è quello Non mi sembra Si chiama tipo Alejandro, Fere Ok Però qua c'è un mob spawner Che cos'è? No, cosa c'è? Non ti avvicinare troppo, Steph Non ti avvicinare No, no, no Lascialo stare Sicura? Sì, non sa Fere Ecco qua Fere Ecco qua È un pirata Aiuto È un pirata cattivo Faccio io, faccio io, faccio io No, Steph Filati, è meglio Così Non è con poi Però ce lo teniamo, prenditelo Lo prendo? Sì, è molto carino Dopo lo bruciamo No, no No, no, è per far capire che siamo contro Ah, ok No, perché è molto bellino È molto carino Ok Buongiorno Alejandro Vediamo, ho visto bene Allora, vediamo un pochettino cosa Non è successo niente Stiamo bene Avevamo solo caldo Avevamo fresco Sì, avevamo caldo Ok Allora Ok, questo c'è scritto un bel romanzo Chi sei tu Non ti avvicinare a me Fai parte Fai parte di una banda di briganti Penso che intenda qualcosa del genere E noi diciamo E noi diciamo Calmati, calmati E lui non si fida di noi Dopo 5 minuti di spiegazione E ci spieghiamo per 5 minuti Mi sembra giusto Ok, ok, ok Ok Allora Lui dice che è uno ship engineer Quindi teoricamente è un ingegnere Lui vuole queste cose In cambio del meccanismo per poter ripartire No, forse penso che se gli dai quelle cose ti fa il meccanismo per poter ripartire No, vedi, final meccanismo Ci fa questo qua e lo usiamo per riparare Esatto Però noi gli dobbiamo dare il railstone comparator Eh, ti sei spiegato male E l'hopper Alejandro è la nostra soluzione per riparare la nave Ma dobbiamo trovare prima di tutto Dove trovare questi oggetti Per scambiare con lui Con l'ultimo meccanismo Allora, ci dobbiamo ricordare bene Questo qua è un È un indigeno Un indigeno Ma è un indigeno Eh, fammelo vedere Eh, ma che bello che sei No, questi lasciali sono troppo bene Però fa rumore della zombie Però vedi che ci danno qualcosa Ti ha dato qualcosa, Steph Una spada di legno Ma magari serve per altre cose Non ci serve a nulla Vai, 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 qui dentro frughiamo tutto nelle case Esatto Magari troviamo un bel tesorino Che bello questo villaggetto Qua c'è uno stendardo Ok, dietro lo stendardo Non c'è nulla Vediamo in quest'altra casetta qui Che c'è addirittura una porta Niente, soltanto un letto nascosto Ok Ok, però aspetta un attimino Che qua, altrimenti Questo ci attacca di nascosto Ci sono altre casette Continuiamo ad esplorarle tutte Vai, 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 vai Prima o poi qualcosa la troviamo Akama, c'è qualcuno dentro Buongiorno Salve Questo secondo me è il capo tribuna Sì, ma li hai ucciso tutti, Steph Io non so se è il caso di parlarci Beh, allora facciamo parlare il pollo Vai, pollo Parlaci tu No, no Vai, ormai prendi coraggio Ok Allora Ciao chi sei? Parla in una lingua strana Ok Però Strike with the gorilla king And gain his crown Find the totem Exchange with Akama Praticamente Vuole Il totem Più la corona E lucida l'hopper Dopodiché ci mancherà Sant'Anto Relson Diceva di affrontare il gorilla Per prendere il E cosa ti avevo detto Fin da subito Come facevi a saperlo? Facevi a Che cos'è se non è King Kong? Fere Perché si è uguale Quei versi Vai Sembra un posto dove hanno chiuso qualcuno Secondo me vai Vado Vai Apri Buongiorno Chiudi la porta che non si sa mai che scappi e distrugga il villaggio Beh io credo che nel caso ci attaccherà Se qua è tutto chiuso No c'è Simon Ciao Simon Ciao Simon Allora prima di tutto controlliamo se possiamo rubare qualcosa No peccato Buongiorno Buongiorno Allora Sono Simon E vivo qui Chi sei tu? Dieci minuti di spiegazione Invece che cinque Sometime I lost the record Ok Allora Dice quindi Io voglio spiegare un attimo una cosa Questa mappa è stata fatta da un russo Che a quanto pare non sa bene l'inglese Quindi certe cose sono un po' complicate Esatto No sto avendo davvero difficoltà a tradurre Infatti Guarda Ho realizzato che probabilmente Era fatto male Io avevo già capito Bravissimo Ok un pezzo è andato Una su due Quindi noi dobbiamo sfidare King Kong Dopodiché andremo a scappiare con il capo Tribù Il pezzo La corona di King Kong Per appunto l'hopper E a quel punto Ma non controlli bene se c'è qualcosa lì dentro Te ne sei andato così No già avevo controllato tutto Ok Va bene andiamo Da questa parte Questa non l'abbiamo ancora esplorata Sì io ho notato qualcosa qui C'è del sangue Esatto È morto qualcuno Steph Sì Ferre penso di sì Tu ci stai scherzando Io penso che questo No non sto scherzando Oh Ma questa Questa è una corona È la corona che noi dobbiamo prendere Aspetta Che cos'è No è una testa È una testa E questa è una corona No è un'altra testa Steph È un'altra testa Sono teste Ok È abbastanza importante Vabbè seguiamo un po' queste tracce Perché secondo me Non dare le spalle alla montagna Che adesso ti attacca Steph ti si attacca in testa Credo che sia gigante L'avremmo già visto Ferre Ho trovato una cesta E c'è la mappa Io credo Che sia la mappa del tesoro Lì sì Sì No non dirmelo Adesso ricontrolliamo bene la mappa Ma non dirmelo Guarda È un po' inquietante Guarda Guarda che ci siamo È questa Esattamente qua È questa Scava lì al centro Al centro Al centro Ecco ecco ok Ok il totem Ok Allora Prendi un po' di oro Steph No le golden carrots Sono utilissime Ci potrebbero salvare la vita È un po' di oro E ovviamente ci prendiamo anche l'oro Dai Non è che ci fa tipo l'oro qui Eh non è che Sì sì Può far comodo Può far comodo Ce lo prendiamo Ok Pezzi di oro Ok Allora quindi Abbiamo il L'exchange Il redstone comparator Scusami Compensate Compensate Non lo so Qualcuno Quello di redstone Esatto Abbiamo il totem Ci manca soltanto la corona di king kong Ok Steph Mi sembra un templio Questo è l'altare Secondo me Vai Come on No 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 Stavo scherzando È questo Io lo sparo Sparalo È arrabbiatissimo Sparalo Aiuto Sparalo aiuto Aiuto Scappa Allora non ti incastrare Steph Mi raccomando Fai il bravo pirata E concentrati Calmo gorilla Stai calmo Vogliamo soltanto la tua corona Abbiamo ucciso con una freccia Questo ne abbiamo già tirato 15 Tipo Scappa Corri più che puoi Steph Mangia le carote d'oro Non pensavo facesse questo danno Ok Aspetta 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 Stiamo recuperando tutti i cuori Eh non sta capendo bene Non ha visto dove sei Ok Sì 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 Perché non è molto intelligente Stiamo confondendo Non ci vede Siamo troppo lontani Ok Continuiamo così Ok Vai Vai a prendere la sua corona È qui? Sì Perfetto Corona presa Totem preso Possiamo andare a fare lo scambio Con il capo tribù A quel punto ci darà l'hopper Torniamo dall'altro tizio Che ci darà il meccanismo Per riparare la nave E se ne possiamo andare E se abbiamo fortuna Ce ne potremo andare Sì capo tribù Toc toc Abbiamo tutto quello che volevi Tieni questo Tieni questo Grazie per l'hopper Ok Corriamo Dai Steph Che me ne voglio andare da qua Anche se poi questa isola è bella Nel momento in cui abbiamo sconfitto King Kong Ci stanca Beh è vero Adesso abbiamo sconfitto Gli indigeni Abbiamo sconfitto i pirati Abbiamo sconfitto King Kong Credo che ormai l'isola Sia bella che tranquilla Eh sì Lo spero Adesso vediamo A parte che ci sono Pokémon in giro Tartarughe Quello non sappiamo bene Ma quelli sono carini Da dove arrivano Però esatto Sono carini Non rompono le scatole Quindi vanno bene Ferry guarda questo parkour Vai Ok Allora amico mio Quindi tu volevi questo Più questo E ci hai dato il meccanismo Per riparare la nostra nave Che non sappiamo Però in effetti Dove Aspetta Però puoi vedere un attimino La descrizione Dice Can be placed on block of gold Ok io stavo dicendo Non so dove va piazzato Eh per quello Mi è sembrato di notare qualcosa Adesso vediamo Ma ce l'abbiamo questo block of gold? Secondo me sta sopra la nave Ok Quindi andiamo alla nostra nave E vediamo Ho visto il blocco di gold Ho visto Andiamo Uno Due E tre Ok Saliamo qui Mettiamo Questa qui Facciamo così Così Aziona Credo sia finita È finita? Credo di sì Perché ci ha messo in spectator mod Quindi credo che sia finita Abbiamo sì Perché abbiamo riparato la nave Un fuochi artificio Complimenti Sì avrei preferito Anche solo una scritta Tipo bravo Non sei morto Nell'isola E hai vinto Invece è stato un po' così Ragazzi Lasciateci un like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.